Nel 1991 la band di alternative rock di Seattle, Nirvana, pubblica il suo secondo album intitolato Nevermind. La copertina, realizzata da Robert Fisher, ritrae un neonato immerso nell'acqua cristallina di una piscina, intento a raggiungere un dollaro appeso come esca ad un amo. I colori sono vividi, brillanti e attraggono l'occhio così come il dollaro attira il bambino. È una delle copertine di maggior impatto visivo di sempre. Nonostante l'efficacia della realizzazione finale, il concept iniziale doveva essere differente. Kurt Cobain, affascinato da alcuni documentari che aveva visto in televisione, voleva che la copertina di Nevermind raffigurasse un parto acquatico. Ma da un lato l'impossibilità di reperire una foto slegata da diritti che avesse connotati artistici, che la perplessità della Geffen Records di mostrare un evento tanto affascinante quanto esplicitamente crudo, portarono ad abbandonare l'idea ma a mantenerne l'ambientazione. Fu così che Fisher contattò il fotografo subacqueo Kirk Weddle per fotografare un neonato immerso in piscina. Quattro bambini si prestarono ad essere provinati per il ruolo. Uno di questi era il figlio stesso di Kirk, Spencer Elden, di soli quattro mesi. Il fotografo portò a termine il servizio fotografico completo per il materiale di Nevermind nell'arco di tre shoot fotografici, tutti in location, a Pasadena, nella California del Sud. Per lo scatto di copertina, Kirk convince suo fratello Rick ad immergere Spencer nell'acqua. La madre, posizionata alla sinistra del fotografo, soffiò aria sulla faccia di Spencer. I bambini hanno il riflesso faringeo incondizionato e, come conseguenza, trattengono il fiato. Kirk scattò a 18 fotogrammi al secondo, quindi complessivamente Spencer restò immerso per circa due secondi totali. Due immersioni, due rullini e stop. Il fotografo era sicuro di avere lo scatto buono per la copertina. Andarono tutti a mangiare dei tacos inconsapevoli dell'importanza storica di quello che avevano appena immortalato. Successivamente, in post-produzione, il dipartimento grafico della Geffen aggiunse l'amo con il dollaro. Nell'espressione di Spencer immerso in acqua, è possibile scorgere l'adrenalina dell'immersione, il senso di stupito divertimento. Il bimbo fu pagato 250 dollari, lo standard sindacale per un modello sconosciuto. E successivamente alla release del disco, alla famiglia fu recapitato il disco incorniciato, a certificare il triplo platino, che ancora oggi è appeso nel salotto della loro abitazione a Los Angeles. Un poster di Nevermind, invece, fu appeso sopra il lettino in cameretta. Le restanti due session fotografiche servivano per completare l'artwork del disco, quindi le pagine interne. Questa volta servivano anche i Nirvana. Si diedero appuntamento la mattina presto, presso la stessa piscina, ma le condizioni del meteo, così come quelle della band, non erano ottimali. A causa di un concerto la sera precedente, iniziato tardi e finito tardissimo, nessuno di loro aveva dormito più di un paio di ore. Cobain si rese irraggiungibile e si presentò sul set con oltre due ore di ritardo. Poi fu rinvenuto a dormire a bordo piscina, cosa che durò per un altro paio di ore. I Nirvana dovevano essere ritratti immersi in piscina proprio come Spencer, ma con i loro strumenti addosso o vicini nel caso di Groll. Erano previste foto di gruppo, ma anche dei singoli, che richiedevano una buona dose di fortuna nel combinare tutti gli elementi, viste le avverse e particolari condizioni della location. Con pazienza e bravura, Kirk portò a casa anche questo shoot, e le immagini inedite furono rese pubbliche solo in tempi recenti. Spencer Elden, vent'anni dopo quella famosa giornata, rivisitò lo shoot, prestandosi a posare ancora una volta per suo padre, ricreando la copertina di Nevermind con lui adulto, una volta acquisita la consapevolezza di essere stato il protagonista di un'immagine così iconografica, tra le più leggendarie di sempre. Ma qual è il significato del bambino immerso nella piscina intento ad inseguire il dollaro? Per i fans, il neonato simboleggiava i Nirvana stessi, la band bambina, giovane, piccola, pescata come una preda, dal corporate rock e dai suoi milioni di dollari. Per altri, invece, rappresentò la perdita dell'innocenza, oppure una critica al modello di business delle major, o ancora il sistema tentatore del consumismo capitalista americano. 29 anni e 30 milioni di copie dopo, e dopo successivi tentativi di parodia o di imitazione, i colori di questa ipnotica copertina conservano un posto centrale nell'Olimpo degli artwork, tra le icone leggendarie della musica rock. Ah, per la conoscenza, né Spencer né suo padre Kirk ricevettero mai mezzo dollaro per i diritti d'autore della foto.